Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della Black Legacy. Eravamo rimasti con i nostri gemelli, anche qua abbiamo dei gemelli, ovvero Grace e Noah in vacanza con tutti i loro amici e domani, adesso è domenica, sono le 14 e 42, vi faccio vedere il calendario che domani è il penultimo giorno di vacanza ed è il compleanno appunto dei gemelli, perché sono venuti qui a festeggiare l'ultimo dell'anno, la fine della scuola, mettiamo, facciamo finta, ma anche il compleanno dei gemelli. Vi faccio vedere anche che alla fine di questa settimana, della prima settimana primaverile, c'è un sacco di compleanni, ovvero il compleanno di Sydney, il compleanno del piccolino e il compleanno di Ellie, cioè mi diventa anziana, Ellie mi diventa anziana, io non mi ricordavo di essere a questo punto, volevo fare ancora un sacco di cose, vabbè, tralasciamo questo e pensiamo ai gemelli. E sì, perché Ellie è adulta, quindi, oddio, mi sta venendo il dubbio se Ellie è adulta o ancora giovane adulta, ho sto dubbio pazzesco, no è ancora giovane adulta, quindi deve diventare adulta, mi stavo confondendo, pardon, mi stavo confondendo, Ellie è ancora giovane adulta, bene, perfetto, perché nella mia mente ho ancora un sacco di cose da fargli fare, quindi un attimino e Brandon diventerà un bimbo, ok. Quindi direi di pensare ai gemelli, ah, ho dato un makeover anche a Daria, molto semplicemente, un po' come ho fatto con la sua fidanzata Iroko, ma così è molto velocemente. Alcuni sono qui fuori a godersi questa mini piscina e lui cosa vuole fare? Ah, cucinare, ragazzi, si è anche andato tipo dal parrucchiere, si è sistemato i capelli, naturalmente elegante, la nuova concettura di Noah è l'emblema della bellezza naturale, del fascino naturale, è come se la sua felicità fosse presente in ogni capello e gli altri non potessero fare a meno di ammirarne il fascino autentico. Guardate che portamento il nostro Noah, si sente super figo. Allora, io direi, volevo andare, vabbè, facciamogli fare da mangiare a lui, magari cucinare, non so se gli altri hanno fame, lei deve andare in bagno, quindi direi di mandarle in bagno, lui ha fame e poi direi di andare a fare una bella gita tutti insieme. E poi domani mattina iniziò a preparare poi la torta, volevo fare la festa tipo in casa, vediamo, apri, vediamo cosa c'è qua dentro, delle patatine, proprio da ragazzi adolescenti che si divertono, quindi il giorno dopo volevo appunto fare la festa, magari pomeriggio, non lo so. Io inizierei già ad aggiungere l'evento, sì, con gli obiettivi e farei i due Larson, Black, ok, Grace e Noah e gli ospiti. Allora, non mi ricordo chi sono gli ospiti, cioè con chi siamo andati in vacanza? Mi sta venendo questo dubbio, aspettatemi, fatemi vedere con chi siamo andati in vacanza? Allora, siamo andati in vacanza con Noah, Aria e la sua fidanzata, giusto? E Iroco, ok, Noah, Aria e Iroco, ottimo. Con gli obiettivi, dai. Quindi, i due festeggiati, Aria, Noah e Iroco. Fornitore, quale lasciamo perdere, vacanziero e magari facciamo, boh, dalle 18, dai. Ci sta. Quindi, sì, mangiati i tameles, lì come si chiamano, e poi ce ne andiamo... Tu dove fai? Ah, vuole apparecchiare la tavola. Bravissima. Vi ricordo anche che lei, Grace, è educata, responsabile e non ha ancora preso in patica, ma volevo farglielo prendere, cioè manca una tacchetta. Invece, il nostro Noah, per ora, non è niente, manca responsabile. Cioè, Noah, proprio... Lasciamo perdere. Vabbè, ripulisci, caro. E lei vorrebbe chiedere un sim per cui una cotta di uscire. Vabbè, magari stringiamo, dai. Facciamo qualcosa di carino mentre questo sta finendo di mangiare. E poi, visto che siamo qua, appunto, volevo fare un'escursione, una gita di... Oh, questa è l'abilità di corteggiamento. Ok, che carini! Oh, che carine! Oh, ma che carine che sono! E' uscito un sentimento, fatemi vedere che sentimento... No, non è uscito niente, aspetta, Iroko... No, non è uscito niente, ma è uscito il fumetto come se lei avesse la... Avesse una cotta per lei? Ok, dai. Allora, prendiamo tutti e andiamo a fare questa escursione. Ed eccoci qua che volevo partire da qui per andare, appunto, a fare le escursioni. Allora... Informiamoci su... Vabbè, riesci ad andare sulla slitta... Informiamoci sulle escursioni, perché va a informarsi sulle escursioni, intanto siamo qua. Ellie ha portato a casa 1045 Simoleon. Perché non mi ricordo più quali sono le escursioni? Perché ci sono le escursioni in montagna dove c'è la neve, e poi le escursioni, appunto, qui nei boschi, qua su, nei boschi. Vediamo un attimo. Allora... Il Monte Comorebi è ricco di splendidi percorsi escursionistici che possono essere esplorati per conto proprio, ma che risultano più appaganti nell'ambito di un'escursione di gruppo. Infatti siamo in gruppo. Basta trovare una bacheca informativa sulle escursioni. Esistono tanti bei posti da esplorare. Possiamo fare una passeggiata per la foresta di bambù, oppure possiamo fare un'escursione al Tempio delle Mille Foglie, o visitare il santuario storico del viaggiatore, o percorrere ponti congelati fino alla baia naturale di Yukimatsu. Sono escursioni molto tranquille, ma fai attenzione agli animali selvatici. Ok, dai. Io direi di partire... Allora, forse da qui... Possiamo fare un'escursione alla foresta di bambù, al Tempio, oppure al Santuario. Fare un'escursione panoramica... Un'escursione in giro. Io andrei fino al Santuario Montano con, vabbè, tutti i ragazzi, tutti i miei amici. Dai, il capogruppo è Noah. È lui che decide. Ah, una cosa. Io non ho la minima idea quale sarà il futuro dei due gemelli, ovvero la parte lavorativa, che lavoro faranno in futuro. Ad esempio, a Grace avevo un'idea, ma praticamente il gioco me l'ha smontata, perché pensavo che gli piacesse la parte robotica, eccetera, ma lei in verità non gli piace. Era uscito che non gli piaceva. tutte le cose riguardanti la manualità, così non gli piace. E Noah, sì, gli piace lo sport, ma non ce lo vedo ancora come lavoro. Eccoli qua, i ragazzi che si stanno facendo una bella escursione. Con il capogruppo Noah. Facciamo una fotina, dai. Comunque Aria è carinissima, proprio, proprio carinissima. Allora, qui prendiamoci cura, ok, che i parenti si prendono cura di se stessi. Ah, andiamo. E noi andiamo un po' in giro a vedere un po' questi posti bellissimi, che a me è il monte, questo è il vecchio cimitero, a me è questo, il monte Komorebi, a me piace tantissimo, anche come i paesaggi. Oddio, si sono persi. Ehi, è super flortante, invisibilio per l'amore. Stata di tranquillità per i dentorni naturali, vabbè, è un po' stanca la ragazza. Vediamo, c'è qualcuno che mi... La mia cotta mi ha appena spezzato il cuore, ho bisogno di parlare. Oh, poverino, cos'è, un amico? Ok, parliamo, magari... Ah, esci fuori, no, no, siamo in vacanza. Mi spiace, che gli ha spezzato il cuore. Oh, guardate, siamo sul ponte, ma che bello! Ovviamente si fanno le foto, perché... Cioè, siamo qui sul ponte, meraviglioso. Oh, siamo arrivati! Allora, qui ci sono anche... Dei funghi. Allora, facciamoci un selfie. Ma gli altri se ne sono andati? Sì, basta. Urla e ascolta l'eco insieme, dai, tutti insieme, urliamo. Allora, facciamo un vero selfie, magari con la sorella? Dai, siamo qua insieme. Ah, stanno arrivando, eccoli! Dai, intanto noi facciamo un selfie qua al tempio. Lei è un po' stanca. Allora, ma io forse avevo la macchina fotografica, aspettate. Sì, 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 sì. Allora, scatta una foto con... Allora, facciamo così, lei è stanca. Anzi, mi sa che tra poco va a casa, cioè all'alloggio, perché è molto stanca. Mi faccio la foto con qualcun altro, tipo una scatta una foto con... Magari con Aria. Tutti che fanno l'eco, bellissimo! Tutti che si divertono. Dai, Aria, facciamo una foto. Non si vede tanto il... Si vedono questi due, e vabbè, divertiamoci. Beh, si vedono gli altri due amici, e direi di fare la foto questa qua, dai, carinissima. Scattiamo una foto, per ultimo. E boh, baciamoci con la fidanzata, dai. E direi di tornare poi a casa, perché siamo un po' stanchi, anzi. Non ce la fanno più, meno. Lei non ce la fa più. Oh, dai, un bacio! Che carino! Di fronte al tempio! Qua ci vuole una foto. Così, guardate. Ecco. Va bene, direi di tornarcene a casa. Abbiamo fatto un'escursione, e magari domani ci divertiamo sulla neve. Adesso andiamo a casa, che siamo tutti stanchi. No, lo spirito di Adam sta svanendo, che tristezza. Sono le nove e mezza, e sistemo tutti quanti i ragazzi, e secondo me ci vediamo direttamente domani mattina sulla neve, perché tanto li faccio mangiare, sistemare i loro bisogni, niente di che, insomma. Ed eccoci qua, sono le tredici e quattordici. Abbiamo, i ragazzi si sono svegliati un po' tardi oggi, e siamo andati, arrivati qua sulla neve. Grace, dove sta andando? Ah, sta parlando, perché alcuni sono qua al bagno, onsen, tipo aria, e anche la sua fidanzata, e lei vuole andare sulla slitta. Lui invece, non so dove sta andando, ah, vuole salire sugli sci, vuole provare gli sci, e ha noleggiato degli sci, vediamo un po' come se la cava. Iniziamo con, aspetta, 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 che voglio vederti. Eh dai! No! Lo stavo per dire che è bravo! Gradisce, deve guadagnare la preferenza, gradisce gli sci? Ma secondo me sì. Proviamo anche, com'è che si chiama, lo snowboard, no? Tipo, va su gli sci, va sullo snowboard. Una volta, dai, prova. Loro stanno arrivando, penso di sì. Si arrabbia, anche perché è caduto, va bene. Dov'è? Ah sì, lei in costume da bagno, aspettate che la sistemo. No, non posso sistemarla, vabbè, si cambierà da sola. Vediamo lo snowboard, se gli piaccia anche lo snowboard. Cos'ha? Subire le conseguenze. Ah, vabbè, ma queste sono le cose... Sono altre cose che non ci interessano. No, è caduto anche con lo snowboard! Vabbè, dopo questa prova, vabbè, andrà a football, penso che non andranno. Aspetta, vediamo se... Vabbè, non le faremo andare, comunque. E loro vanno... Sì che sei cambiata. Le dice, tesoro, sei pronta? Ma scusa, ma lei col cellulare? Eh, che faccia? Foto per immortalare questo momento. Eh, che carine qua è. Vabbè, anche loro... No, no, non sono cadute. Ottimo. Vabbè, lui ogni due per tre sta chitarra. Allora, andiamo magari... Fare... Raggiungiamo la cima? Tipo... Vabbè, loro due sono al bagno. Anzi, da solo. Raggiungi la cima. E vabbè, tanto loro stanno andando sempre... Cosa vuole fare? Ecco, stanno andando sempre un po' sulla slitta. E poi andiamo anche noi al bagno, dai. Voglio provare a fare una pista con lui, magari con lo sci. Sempre per principianti. Voglio vedere come se la cava. No, infatti, pista una volta. Alta intensità, dai. Lui si butta. Vediamo un po'. Luna. Chiedo ancora una volta il tuo supporto per il piano d'azione di quartiere. Ah, per comunità su di giri. E cos'è? Tutti che bevono il vino. Ma al momento si prevede che vincerà il piano giardinaggio verde. Vabbè, sono con voi. Vediamo Noah. Poi andiamo a casa e festeggiamo anche il compleanno. Dai, ragazzino. Ragazzone. Vediamo come ti seguo, eh. Uno è andato. Dai, se la sta cavando bene. No, no, attenzione. Dai, se così è arrivato alla fine. Bravo! Allora, raggiungi sempre la... No, non tu. Raggiungi la cima. E facciamo anche lo snowboard. Poi andiamo... Loro tanto sono qui che fanno lo slittino. Si divertono. Voglio provare anche lo snowboard. Sempre pista facile, molto... No, si è fatto male! Piedi doloranti per aver usato attrezzatura ricevuta in prestito. Eh, vabbè. L'hai noleggiata, no? Allora, andiamo comunque sullo snowboard una volta a media intensità, visto che si è fatto male. Saetta provetta per una discesa perfetta sugli sci, no? Ho appena eseguito una discesa perfetta sugli sci. Ora si sente davvero su di giri. Ok, dai, facciamo questa e... Oh, la festa di compleanno! Inizia tra poco! Oh, sì, sì, facciamo solo questa, vediamo come va. E poi andiamo alla festa del nostro compleanno. Vediamo? Ah, è caduto! Ah, è caduto! Va bene. No, che potta! Definiresti sana la dinamica tra Grace e Iroko? Che tenerezza! Grace e Iroko sembrano aver cura l'una dell'altra, sia come amiche che come amanti. I partner romantici dalla dinamica amorosa sana scelgono di eseguire più spesso interazioni romantiche, amichevoli o buffe l'uno con l'altro, e occupano un posto speciale l'uno nel cuore dell'altro. Oh, che carine! Sì! E vabbè, ragazzo mio, ti sei fatto male? Niente di che, dai, su! Non lamentarti! Ah, lei ha preso responsabilità. Ed eccoci qui, siamo tornati a casa, si sono anche cambiati, io direi di stufato, facciamo io, vabbè, prepariamo lo stufato per tutti insieme. Socializziamo con il sim festeggiato, con la sorella, tipo spettegola, queste cose qui. Oh, però, guardate Grace, le sembra di essere tornata bambina, per il rendimento buono sulla slitta. Grace non si era resa conto che andare sulla slitta fosse così divertente, e ora è venuta nostalgia di quella della sua infanzia, quelli sì, che erano giorni spensierati. Oh, che carini! Sì, lui mi sa che non sta tanto bene, povero. Allora, lei vuole parlare anche con Aria? Ci sta già parlando, da sola, ottimo. Stanno tutti aspettando il... Lo stufato, penso, no? Allora, vorrebbero ballare, ma non so se ho, tipo, uno stereo o qualcosa, penso proprio di no. Vabbè, intanto lo stufato è quasi pronto, quindi socializziamo. Lei vuole socializzare anche con Noah, quindi parliamo anche con Noah. Ringraziamo per la presenza, ma sì, così. Raccontiamo una barzelletta. Oh, Grace ha raggiunto il livello 6 di carisma. E tesoro, vai in bagno, si deve andare in bagno. Ringraziamo per la presenza. Adesso mangiamo tutti, che abbiamo fame, soprattutto. Dai, è una festa comunque tra amici, è carina. Si mangiano il cibo del luogo. Lei pensa ai panini. Lei vuole diventare amica con Noah. Chiedi del cibo, parliamo con lui. Entusiasmati per il pasto. Parliamo anche con Aria. Entusiasmiamoci per la forma fisica. Sì, siamo un po' stanchi. Lui non sta neanche tanto bene, povero Noah. Perché Noah e Aria sono i migliori amici di Noah. Lei, invece, è molto amica con Aria, anche lei. Perché Aria è un'amica comune tra loro due. Infatti, vabbè, Iroko è la fidanzata. Oh, Grace ha scoperto che Iroko è una creatrice. È attiva e creatrice, questo non lo sapevo. Ma Aria, invece, non conosciamo le sue... Allora, fai così. Amichevole, chiacchiera. Impara a conoscere. Grace ha saputo della situazione finanziale di Aria. Sembra che se la stia scavando bene. Ottimo. Buon per loro. Io direi, allora, di... Di mandare in bagno lei. Partner di escursioni. Noi gli stiamo chiedendo di cambiare acconciatura. Sono curiosa di questa cosa. Allora, questa qui la... Possiamo metterla qui. Inizio a tirare fuori le torte. Perché ne ho fatte due. Una qui e una qui. Con già le candeline. Ok. Allora, io direi di... Andare tutti qua insieme. E esprimi un desiderio. E tu... Anche tu esprimi un desiderio. Vai. Venite tutti a festeggiare. E poi mangiamo tutti insieme la torta. Pronti? Auguri! Il primo è Noah. Mi ricordo dei due chi è nato per prima. Allora. Ai gemelli ho sempre fatto modo casuale. Quindi Noah è sciatto, animale da festa. E facciamo il tre. Vediamo cosa esce. Uno, due, tre. Amante della musica. Interessante. Non ho la minima idea che cosa... Qual è il suo aspirazione di vita. Vabbè. Ama le feste, questo è sicuro. Amante della musica. Io direi... Animale da festa. Io direi questo. Congratulazione. Noah ha finito il liceo. Può avventurarsi nel mondo a testa alta. Tutte le porte sono aperte. Il futuro lo attende. Va bene. Grazie. Vediamo la nostra Grace. Auguri! Guardatelo qui. Il nostro giovane adulto. Facciamo una foto mentre lei sta compiendo gli anni e lui si atteggia tutto con la sua torta. Ed ecco qui. Grace è l'unica che ha preso le buone maniere. Va bene. Lui niente praticamente. E anche lei generiamo a caso il terzo tratto al tre. Uno, due, tre. No, anche lei è animale da festa. Ma io non ce la vedo, Grace. Allora, lei è topo di biblioteca, appassionata di animali e ama le feste. Vabbè, è uscito questo. E non riesco... Allora, lei è appassionata degli animali. Quindi tipo amica degli animali? Allora, questo però è appassionata agli animali. È più... Tipo questo. Custode di campagna. Ma io non ce la vedo, Grace. Proprio... Campagnola. Non ho la minima idea. Intanto io gli metto qua amica degli animali. Ci può stare. Poi vedremo che cosa fagli fare. Comunque è affetto per gli animali. Ama gli animali. Questo è sicuro, dai. Studente più meritevole. Congratulazioni. Scusate. Grace ha ecclistato l'intera scuola e si è diplomata come studente più meritevole. Avanti così. Di sicuro partirà avvantaggiata nel mondo del lavoro. Il mondo intero è nelle sue mani. Wow. Adam ha spedito un regalo. Grazie. L'ingresso dell'età adulta comporta grandi cambiamenti per qualsiasi sim. Le precedenti dinamiche amorose di Grace sono svanite man mano che la sua visione del mondo si è ampliata. Cosa? Nel senso che non è più fidanzata con i Rocco? Questa cosa devo capirla. Straordinario. Grace Larson Black si è diplomata come studente più meritevole. All'onore di pronunciare un discorso alla cerimonia di diploma, assicurati di esercitarti a pronunciare il discorso allo specchio. Prima della cerimonia. Quando è la cerimonia? Diploma guadagnato. Il diploma di Grace sarà recapitato per posta. Quindi quando sarà la... Penso... Di solito è domenica, no? Ah sì, è domenica. Eccolo qui. Evento diploma di liceo dalle 18 alle 23.30. L'ho visto solo una volta l'evento del diploma di liceo. Sicuramente parteciperemo all'evento del diploma. Non possiamo mancare al diploma di ragazzi, assolutamente no. Ok, io direi... Questa cosa non l'ho mica capita. Beh, no, è sempre fidanzata. Vabbè, lei è ancora adolescente. No, no, è giovane adulto. E Aria? Aria è giovane adulta, è solo i rocco. Allora io aggiungi delle decorazioni non nuziali, aggiungi le candeline e farei festeggiare anche lei, dai. In modo che così hanno tutti la stessa età. Facciamo passare d'età i rocco. Così, insieme, facciamo passare d'età i rocco. Facciamo finta che anche lei compie gli anni, tutti insieme. Aguri! Aguri, rocco! Allora, io direi di prendere tutti un pezzo insieme della torta e ci mangiamo una bella torta e via. Allora, lei vuole essere amichevole con i rocco e diventare amica di Noah. Lui? Chiacchierare con Andrea. Cosa c'entra Andrea? Questo momento? Vabbè, facciamo amichevole. I nostri ragazzi che sono diventati grandi! Chi dite la carriera? Chi sa di rocco qual è il suo terzo... È sconosciuto, quindi lei è attiva e creatrice. Interessante comunque. Vedremo il terzo tratto. Oh, florta! Che carina! Vabbè, lui dove sta andando? Beh, comunque nel mio elemento per una festa, fantastico! Dai, una festa tranquilla comunque! È divertente! Siamo arrivati anche all'oro! Vabbè, lui gioca ai videogiochi! Nooo, si è fatta la pipì addosso! Ma scusa, abbiamo due bagni! Vabbè, questi due continuano a... Allora, questo sta male! Questi due continuano a flirtare! Lei che si è fatta la pipì addosso! L'altro che videogioca! Vabbè, bella festa, eh! Ma scusa, Ria, vai a lavarti! Vabbè, senza parole! Sono senza parole! Comunque, lei è molto fiduciosa e lui è felice! Si sta divertendo! Per aver fatto Baldoria, ama fare Baldoria! Ce lo vedo lui comunque che ama fare Baldoria! Quindi dai, presentati ai dieci sim! Ne conosciamo di sim! Non ho mai... Non ho mai fatto questa ispirazione, quindi... Perché no? Ho dei dubbi invece sull'aspirazione di Grace. Grace la devo ancora studiare. Relazioni. Loro sono già fidanzate, quindi chiedi dell'attrazione e della personalità, ma sì, dai, chiediamo queste cose e poi direi di concludere qui la... Vabbè, parliamo con Noa intanto che lei va in bagno. Vabbè, la nostra aria potrebbe anche... Andarsi a lavare. Non glielo possiamo dire! Scusa, vai a lavarti! Vabbè, io direi di concludere qui la festa. Lui sta videogiocando a cosa? Vabbè, è un videogioco. Abbiamo guadagnato l'oro, è stato un bel compleanno. Io direi di concludere qui il video con il nostro Noa che sta... Loro due che stanno parlando, lei che puzza, vabbè, spero... Adesso metto in frigo un attimo questo. Spero che andrà a lavarsi nella notte. Ascolta la domanda di Aria. Perché è diventata flortante? Per essere vicino a qualcuno qui a una cotta? No, sono solo buone amiche. Mi è venuto un colpo. Vabbè, allora, io direi di concludere qui il video. Vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordo di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!